Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizia una nuova serie, facciamo il pacellone di Napoli in Genoa, il pacellone del Napoli. Comunque partiamo dal portiere, prima di iniziare, link in descrizione, scaricate l'app OneFootball, tutte le notizie sul mondo del calcio le trovate qui su OneFootball, quindi link in descrizione. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Comunque partiamo dal portiere, Meret tra i pali, Meret senza subire gol, non ha avuto l'occasione di fare delle parate. Gli do un set, set, ma non ha avuto l'occasione di fare delle parate, non è che il Bologna ha fatto tutti quei tiri a porta dal portiere nostro. Poi, Di Lorenzo, Di Lorenzo, sette anche a lui, sette anche a lui, la prestazione, non c'è male la prestazione. Manolassa, Manolassa, a lui gli do un sette e mezzo, sette e mezzo, vabbè ragazzi, tutti sulla sufficienza perché dopo una partita vinta sei a zero, tutti sufficienti. Poi, Kulibaly, Kulibaly, sette anche a lui, cioè un sette a Kulibaly. Poi, Isai, 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 sei e mezzo, sei e mezzo di Isai, a me Isai non piace. Ieri non c'è male la sua prestazione, però non mi è piaciuto. Fabian Ruiz, Fabian Ruiz, sette e mezzo, sette e mezzo, grande giocatore, ieri mi è piaciuto, Fabian. Gielischi, Piotr, Piotr, Gielischi, Gielischi, otto e mezzo, straordinario, ieri ha segnato anche, si è fatto tutto il campo, volando, correndo. Favoloso, ieri, a Gielischi, Gielischi, ieri è stato molto bravo. Poi, Lozano, Lozano, un'ottima prestazione con doppietta, doppietta e nel complesso, ottima prestazione. Poi, Lozano, il voto, il voto 9, 9 a Lozano, questa è la stagione di Lozano, secondo me quest'anno Lozano farà bene. Mertens, Driss Mertens, mi sembra anche lui ha fatto una doppietta, ho sbaglio, no, mi sembra ha fatto un gol. Un gol. Mertens, otto, Mertens, otto, ottima prestazione anche per Ciro Mertens, anche per Driss Mertens. Ottima prestazione. Insigne, insigne, sei. Non ha fatto niente, perché dopo 20 minuti, purtroppo, purtroppo, si è infortunato, spero che non sia niente di grave. Gli do sei, perché ha giocato 20 minuti, con insufficienza da piena. Poi, Elmas, gli do otto, giocatore straordinario, un bel giocatore. Vittor, Ozyman, 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 sette e mezzo, anzi, anzi, otto. Otto, per Vittor Ozyman, otto, perché ha fatto un assist e anche una buona prestazione. Purtroppo, a questi sei gol non ci sono stati. Gol di... Un gol suo, ma non fa niente. Comunque, ha fatto un bel assist di tacco. Sono contento lo stesso. Ragazzi, se ci fate che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel like. E forza Napoli sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.